Ed eccoci qua carissimi amici, Renato siamo un po' di fretta insomma ma però ti ho detto Spettacolo in diretta, prima che scappi Renato ti ho detto andiamo qua su questa autobianchi Favolosa, favolosa amici guardate Questa autobianchi abbiamo detto giardiniera Sì, favolosa Ed eccoci qua carissimi amici questa autobianchi giardiniera che come ti ho detto Renato non sempre la possiamo trovare Ti ho detto vieni qua catturiamola al volo, portiamola in archivio caro Renato Penomenale, guardate amici veramente messa bene, veramente messa bene amici Guardate qua carissimi amici pare che questa auto venga qua solo per fare la revisione Poi va chiaramente a riposare per anni nel garage insomma Renato E niente insomma ne approfittiamo dato che è uscita per fare la revisione Guardiamola amici, portiamo a casa anche questo pezzo Guardate qua carissimi amici insomma Adesso ti passo davanti e ti apro e vieni sull'interno di Marvin Ed eccoci qua carissimi amici insomma Abbiamo qua questa bellissima Questo interno di questa appunto autobianchi giardiniera Niente, dobbiamo accontentarci di questa visione perché Guardate io mi allungo perché le portiere erano già chiuse E niente carissimi amici accontentatemi Vai Renato Possiamo qua chiudere Chiudiamo e copriamo Ed eccoci qua carissimi amici intanto Vi abbiamo fatto vedere un po' di dettagli ed eccoci qua carissimi amici Veramente bella, veramente bella, veramente vintage Marvin E' una chicca amici, una piccola chicca E' una chicca sì carissimi amici La dedichiamo tutti gli appassionati di autostoriche E niente caro Renato Ti ho detto subito vieni qua al volo prima che sparisca Ripeto, la porta qua solo per la revisione Catturiamola al volo Vai in archivio caro Renato Va bene anche così Cattura l'istante, cattura l'istante Peccato che non si apre le portiere Però niente Carissimi amici qua Marvin e Renato vi salutano Siamo qua appunto in diretta Insomma quasi cena E' ora caro Renato E' il sole, è il tramonto Veramente, non stiamo scherzando E' il tramonto che questa volta Con i nostri filmati Vi diamo appuntamento la prossima volta Godetevi ancora questa chicca amici Da godere e da gustare Carissimi amici qua il Marvin vi saluta E vi dà appuntamento ad un prossimo report Ciao a tutti e a presto Cari amici